Scade domani il termine per il pagamento dell'assicurazione contro gli infortuni domestici. A chi è rivolta e come fare per poter pagare l'assicurazione? È rivolta a tutte le persone, gli studenti o anche pensionati che dai 18 ai 65 anni di età svolgono un ruolo di aiuto domestico, come le casalinghe ad esempio. È una piccola polizza, quella che aiuta su struttura il problema degli infortuni domestici. È possibile pagarla tramite bollettino postale o sul sito dell'Inail. È una piccolissima polizza dal costo di 12,91 euro l'anno che tutela queste persone negli infortuni domestici. Ecco la Feder Casalinghe che si sta ricostituendo qui alla Spezia. È molto importante perché noi non ci ricordiamo forse ma l'incidente domestico è la prima causa al punto di vista di incidente, causa di morte in Italia. Sì, si è ricostituita la Feder Casalinghe alla Spezia. Io ne sono un membro, ma il presidente effettivo è Maria Teresa Penza. Punta sull'informazione di quello che può essere il problema e l'infortunio nella vita domestica. I dati ISAT parlano di 3 milioni e 200 mila infortuni, di cui 8 mila mortali. Quindi l'idea e il discorso di un luogo sicuro, quello della propria casa o del lavoro domestico, in realtà non lo è perché ne parlano i dati ISAT. Grazie.